oh salve ragazzi qui dal 38 mi vedete si allora come va sto portando battle battlefield 2042 ovviamente la prima volta che ho portato è stato quel world fire che è stato quello più forse la partita più lunga che forse quella più grande infatti battaglie epiche caotico ma un po particolare però lunghe un po lunghe poi abbiamo fatto questo cosa tipo cooperativo no che prendi le unità date sopra tv e vabbè poi rientra con la tua squadra eccetera vabbè niente dice sfizioso ma l'ultima volta non c'è andata un po male abbiamo fatto con portal una modalità che è stata con quest conquista bene morio come un maiale cioè carne la magella lo stato puro bene ci sono c'è la nuova modalità che sarebbe questa mo mo io essendo che siamo ancora sotto periodi natale in teoria io vorrei provare questa che la nuova verso che hanno proprio che hanno proposto corsa la classica modalità corsa con le mappe due di questo non so che cos'è infatti sono curioso e poi c'è dopo essere caduti un eserbatoio di zabaione speciale gli elfi ci sono trasformati in essere abietti che minacciano la festività ok vabbè giochiamo prima a questo sì poi il prossimo partita e poi l'ultima prossimo gameplay facciamo questi due il prossimo sarà con quest non non questo questo con quest e poi faremo rush of age ok però prima ci interessa uno e due così finiamo questo calidoscopio ok siamo già stati alla prima partita siamo i russi siamo di terre rosse corsa ok perfetto solo che volevo capire se cambiavano i modelli ma credo di no i modelli sono gli stessi quello che ho capito non cambio cambio solo i colori probabilmente delle fazioni perché sono quello capito ma non non so altro cioè non mi ha ancora capito bene sta cosa così dopo aver fatto tutte le le modalità raga quindi la prossima volta porterò le altre due modalità quello che vi ho detto io darò un esito finale del gioco di battlefield palesemente almeno ho avuto di esperienza via personale quindi posso poi dare un giudizio più corretto a e più piccolo e beh grazie a sta fa ok boris abbiamo boris che poi hanno cambiato solo i nomi ma i tizi sono gli stessi vabbè andiamo con lui assolutamente schiera difendere gli obiettivi e gestire il controllo dei settori quindi è la versione più piccola questa sarebbe è la versione più piccola ed è rispetto ok è la versione più piccola della versione di quello la che abbiamo fatto delle battaglie epiche aia morto malissimo di livello 36 non hai una vita frate con tutto il bene di sto mondo l'obiettivo bravo è stato distrutto dal nemico vabbè morto ok siamo partiti benissimo usiamo le edain giusto per dovrebbero cambiare però le skin però dei personaggi è perché russi gente di colore russo non l'ho mai vista quindi dovremmo cambiare l'estetica proprio l'estetica cioè dopo cambiare personaggi ok ah è morto proprio morto male anche lui aiuto bella questa mi è piaciuta alle spalle aiuto aiuto chi è che mi sta curando no io devo essere curato io devo essere curato non l'ho persa non l'antagonista morto anche tu perfetto ok vedi alcuni premo direttamente la morte per morire in anticipo capito tanto hanno capito che non è cosa oddio come a f... che cosa fa figo eh bene si si è un cecchino quindi ho posto che cacchio che cosa è successo aia aiuto aspetta dimmi che dimmi se posso aia morto ok faccio schifo faccio schifo aia va bene morto cambiamo personaggio tanto tanto sempre questi uso raga no posso usare dimmi che lo posso usare dimmi che lo posso usare ho capito giuro che ho la patente ho la patente non so come si guida aiuto è scomodissimo raga aiuto e vabbè morto malissimo ok ok devo essere sincero ho fatto schifo comunque situazione come siamo messi difende gli obiettivi ok ah quindi stiamo difendendo forse bene quindi noi dobbiamo rimanere qua difendere per tutto il tempo fino a quando non se ne vanno ok quindi i nostri obiettivi sono quelli e dobbiamo cercare di farli campare ok ok forse ho capito dobbiamo cercare dobbiamo impedire che loro rimangano ok quindi diciamo che forse stiamo a fare la cosa giusta ma so io che non me trovo ahia ah era alle spalle vabbè dai volevo darti una mano ma niente che poi era all'esterno non era all'interno ho sbagliato io cambiamo personaggio tanto tanto è indifferente come lo uso io lo uso cioè dicere cariche disinnescate però lo preferisco più lui è un tank mi piace di più però devo entrare con tanta ignoranza con scudo ok 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 i nemici sono stato bravissimo vero e tex scusate sono sorpreso quanto voi lol quindi i migliori ok ah erano erano proprio in pochi erano in otto totale ah ok ma ma ok è molto allora non è difficile però faccio io schifo quindi è normale che non è solo a questo di aver perso è proprio strano a dirsi per il momento a modalità che mi sta facendo impazzire di più non di meno è la prima che avevo provato nella prima nel più gameplay quello là tutto caotico di 64 contro 64 è caotico però fa più più è non dico divertente però è più folle e quindi hai la voglia di giocare quello non mi è piaciuto molto non è che caotico camperoni camperoni si nascondono già troppi ne ho beccati vabbè vediamo la versione natalizia dopo questa natalizia offensiva delle delle ardenne ah wow ardenne ok personalizzato vediamo questa cosa del personalizzato quindi vuol dire che i prossimi sanno halloween pasqua e tante cose ok ok l'anno cinese l'anno del drago l'anno della scempia tante cose tante cose ok qua ho paura ardenne però è invernale quindi ho seriamente paura quindi vuol dire che noi quanto che affronteremo come è la modalità orde e io che pensavo che questa cosa funzionasse funzionava solo a battlefront 2 succedeva sta cosa ok ho capito però io volevo giocare ah questa è la chat ok prossimo no volevo provare quella mappa volevo provare ti prego deriva la odio l'abbiamo fatto nella versione cooperativa è stato bruttissimo ok lo stanno mettendo per via d'inverno ok però le hand era vabbè quella era più bella come mappa lo confesso mi agarbava molto di più questa già non mi è piaciuta quando abbiamo fatto la versione cooperativa quindi se poi è una cosa di porte contro sottospecie di folletti ai satanici distalle il gioco no non è vero però comunque è bellissimo che si andranno la squadra a russa personalizzato oltretutto vediamo un po' comunque voglio sapere a vostro parere se vi garbava anche il fatto che vedate la mia la mia stanza che poi l'ho fatta sfocato quindi sembra che io non sono neanche nella mia stanza fa un effetto strano però se metto un po' la mano così si noterebbe si ecco vedete si nota un po' lo sfondo dai vediamo questa questa modalità oh mio dio siamo ragazzi siamo inquietanti siamo estremamente inquietanti sono pericolosissime ma sono dell'IA praticamente Ok, no, io sto cercando di capire Ma io non capisco se sono IA o non Ah, ma state avanzando Aspetta che arrivo anch'io Allora, sembra direttamente alle spalle Siamo come la SWAT Stiamo andando a cacchio duro proprio A ricerca di assassini Di pazzi psicopatici vestiti da Da elfi Mostra Sono inquietante È una caccia al tesoro È una caccia al tesoro È una caccia al tesoro iscriviti Ti ho dato un bel supporto Quindi Dobbiamo far fuori a questi qua Che so Oh mio dio Va bene Ti do il compagno Il supporto I'm a coppola Ok 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 Wow Ok 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 è un babbo natale contro elfi granite no volevo salvarlo come sconfitta no ma come stiamo facendo un massacro non l'ho capita non l'ho capita ero sicuro ok posso morire una volta ma quindi vuol dire che gli altri sono morti tutti praticamente non ho capito ok va bene mancava fino a 50 quindi non ho capito che boh va bene non fa niente vabbè ho sbloccato achievement sono contento va benissimo intanto mi mandano messaggi raga dopo me li mandate raga perfetto bene ah abbiamo ok 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 nuova leva ok va bene abbiamo fatto questo e questo la prossima volta la prossima partita sarà questa e questa ok raga qui del 38 al prossimo video passo e chiudo bella raga